Loredana Bertè svela il retroscena shock della sua vita privata. Bjorn Borg preferiva la cocaina a me, poi mi fece una proposta scioccante. Prima di raccontarti gli inquietanti retroscena nella relazione di Loredana Bertè e l'ex marito Bjorn Borg, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video. Grazie per il supporto. Francesca Fagnani ha avuto l'occasione di intervistare Loredana Bertè nelle anticipazioni di Belve. La cantante ha rivelato dettagli sconvolgenti sul suo passato, compreso il tormentato rapporto con l'ex marito, il tennista svedese Bjorn Borg. Senza mezzi termini, Bertè ha dichiarato, preferiva la cocaina a me, una volta in Florida voleva che facessi sesso con lui e altre due donne vestite di pelle con fruste. Queste richieste estreme sono state la causa principale della fine del loro matrimonio turbolento. Bertè ha descritto l'episodio in dettaglio. Siamo stati in Florida e quando siamo tornati in albergo ho visto che ha chiamato il room service chiedendo due donne molto provocanti. Quando sono arrivate, vestite di pelle con le fruste, mi ha detto che voleva passare a un altro livello. Non ho potuto accettare e l'ho lasciato. Il rimorso per la morte di Mia Martini Inoltre, Loredana Bertè ha condiviso il suo dolore per la morte della sorella Mia Martini, rivelando di non essersi mai perdonata, di non aver risposto al telefono quella notte fatale. Il telefono ha squillato tutta la notte e io non ho mai risposto. Me ne pento amaramente perché non posso rimediare, ha confessato con la voce rotta dall'emozione. Francesca Fagnani ha anche toccato il tema del possibile riavvicinamento con l'amico Renato Zero, al quale Bertè ha risposto sinceramente Molto dipende da lui. Continuate a seguirci per tutti. Gli aggiornamenti su news e curiosità del panorama italiano.